Il Comune di Montevarchi parteciperà ad un bando per la completa riqualificazione energetica del Palazzietto dello Sport dei Viale Matteotti. Il progetto è volto all'ottenimento di un cofinanziamento regionale per oltre un milione di euro. Ad annunciarlo il Sindaco della città Silvia Chiassai Martini durante la registrazione della trasmissione prima pagina negli studi della nostra emittente. Poco tempo fa abbiamo partecipato ad un bando regionale realizzando un progetto da oltre un milione di euro per quanto riguarda il tentativo di avere un cofinanziamento da parte della regione per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport. Quindi naturalmente come dicevo le strutture sportive che sono una delle priorità dell'amministrazione stiamo agendo in maniera concreta per cercare di stravolgere veramente la condizione del Palazzetto dello Sport. Come stiamo lavorando ormai da mesi in stretta sinergia con l'Aquila Calcio e con il nostro ufficio per trovare una soluzione per una messa in sicurezza e un miglioramento appunto di tutto il mondo del calcio e dell'atletica. perché queste sono realtà frequentate da moltissimi giovani e non appunto della nostra comunità e sono strutture che purtroppo sono sotto l'occhio di tutti e sono rimaste indietro di decenni per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria.